Grande festa del Partito Democratico a Desenzano del Garda dal 7 al 18 luglio in via Giovanni XXIII presso la pista di pattinaggio, calendario ricco che avrà come protagonisti temi più scottanti che stanno caratterizzando la politica degli ultimi mesi. Si parlerà di lavoro, di servizi sociali, di giustizia, passando attraverso il complicato rapporto tra ambiente e sviluppo, senza tralasciare il risultato del referendum e le ultime novità sulla finanziaria. Interverranno Pietro Bisinella, segretario provinciale del PD, Diego Peli, capogruppo in provincia e molti altri. Giovedì sera sarà ospite della festa Enrico Letta, vice segretario nazionale del PD, che illustrerà la situazione in campo nazionale del Partito e le soluzioni concrete da trovare per i problemi dei cittadini, affrontando tutto con una politica intelligente, seria e vicina alla gente.